Seminario PSR dedicato alle misure della tartuficoltura, che impressioni ha avuto? Sicuramente positive perché sono anni che con la Regione interlochiamo su questi argomenti e finalmente sentiamo che alla tartuficoltura ci sarà anche compreso il finanziamento all'irrigazione che è fondamentale per la tartuficoltura. Quindi vediamo una Regione attenta a questo, chiamiamolo anche business futuro, perché fino adesso non si sono accorti che il tartufo poteva essere un reddito per molti cittadini. Adesso si sono accorti e sono attenti anche, parlando anche proprio di ripristino delle tartufaie del Bianco, quindi territori che sono abbandonati. Adesso con questa sensibilità della Regione possiamo ripristinarli, migliorarli e di nuovo raccogliere tartufi dove non ce n'erano più. Grazie.